La campagna elettorale non è ancora ufficialmente iniziata e se opereremo bene riusciremo a dimostrare a tutti gli elettori che sono proprio appunto questi euroscettici quelli che cercano il capo espiatorio per tutti i mali negli altri. Io sono disposto a cambiare l'Europa, capisco la frustrazione che è stata espressa da molti cittadini. Un'Europa nella quale chi specula guadagna e chi invece non specula deve pagare per i debiti che sono stati contratti non è un'Europa che mi trovi d'accordo.